Non si placa la polemica sollevata dalla decisione di Ravenna Antica di trasferire dal Museo Didattico del territorio di San Pietro in Campiano uno dei reperti di maggior valore tra quelli conservati all'interno della piccola struttura. Dopo il sit-in, organizzato pochi giorni fa in occasione del prelievo dell'elmo di Nagao, copricapo del VI secolo e dal 2000 custodito ed esposto al museo, è partita una raccolta firme proprio per chiedere che il prezioso copricapo torni a far parte dell'esposizione presente in Via del Sale. In pochi giorni, a tempo di record, sono state raccolte più di 200 firme e le mamme già si stanno organizzando per raccogliere quelle mancanti. Ma nelle ultime ore a urtare la sensibilità di non pochi residenti di San Pietro in Campiano e delle zone limitrofe è stato un post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal direttore di Ravenna Antica, Sergio Fioravanti, un post nel quale il direttore sottolinea che a San Pierino non c'è alcun museo, a San Pierino c'è un centro didattico gestito da Ravenna Antica che ogni anno organizza laboratori e attività per oltre 6.000 ragazzi. Il problema del centro didattico non è se va via l'elmo, il problema è se va via Ravenna Antica. Dopo averlo ripensato, rivitalizzato, rilanciato, organizzato, valorizzato e amato, Ravenna Antica non ha nessuna intenzione di lasciare il centro didattico di San Pierino, non ad ogni costo però. Parole che hanno fatto surriscaldare gli animi poiché non è piaciuto nell'aver sottolineato che non si tratta di un museo, ma soprattutto non è stata ben digerita la conclusione del post che è apparsa a molti come un'esplicita minaccia. Per provare davvero un chiarimento sul post abbiamo contattato il direttore, ma ci è stato spiegato che al momento preferisce non rilasciare delle dichiarazioni, visto che la questione Museo di San Pierino sarà a breve trattata ufficialmente e in maniera approfondita.